E' cominciato il 2013 naturalmente con molte aspettative ma anche con molte preoccupazioni per quello che riguarda l'economia. Sono giorni davvero difficili, d'altra parte la crisi economica non è nuova, ce la stiamo trascinando alcuni anni e bisogna soprattutto analizzare, bisogna capire il perché ma bisogna anche studiare soluzioni per uscire dalla crisi. Allora noi ci siamo rivolti a dei veri e propri esperti che stanno sul mercato, fanno opera di analisi anche di consulenza e ci riferiamo naturalmente a uno studio affermato, lo studio Giaccardi e Associati che lavora in tutta Italia che ha un po' il polso della situazione. Siamo con due appunto dei titolari di questo studio e cominciamo da Giuseppe Giaccardi, gli chiediamo innanzitutto allora siamo in crisi, questo l'hanno capito tutti, ma quanto durerà? È possibile dirlo? Beh non facciamo gli indovini, azzardiamo le previsioni ma non facciamo gli indovini. Pensiamo che sarà ancora una crisi che abbia una portata di un paio d'anni, senz'altro, perché assistiamo ad un riassestamento delle logiche economiche a livello planetario. Per esempio i grandi traffici una volta andavano da occidente verso oriente, oggi invece i grandi traffici, le grandi merici, le grandi attività di produzione vanno d'oriente verso occidente, quindi è cambiata anche la natura, il ruolo per esempio dell'occidente a cui apparteniamo a livello planetario e mondiale, questo richiede un assestamento. Sostanzialmente lo scopio della crisi con la vicenda dei multi-suprime negli Stati Uniti è stata una detonazione, ma in realtà il meccanismo è molto più profondo, ha origini di tipo culturale, di tipo planetario, globale e di riassesto dei sistemi economici a livello mondiale. Allora è bello avere anche una voce femminile, naturalmente perché si parla molto di donne, si parla di quote rosa, però poi alla fine forse si fa poco o molto poco, però noi vorremmo capire se questa crisi ovviamente ha travolto anche quei tentativi di imprenditoria femminile che erano stati messi in atto e quali sono le prospettive. No, tutt'altro, in realtà l'imprenditoria femminile da questi anni di crisi esce forse ancora più forte di prima. Abbiamo avuto occasione negli scorsi anni, esattamente due anni fa, di fare proprio una ricerca, la prima in Italia, intitolata Fattore D, che aveva l'obiettivo appunto di dimostrare che le imprese femminili o con una leadership forte femminile sono anche più performanti dal punto di vista economico. Questo è affermato in diverse ricerche realizzate negli Stati Uniti, noi siamo andati a verificarlo nello specifico qui nel territorio di Ravenna e abbiamo visto che effettivamente, confrontando imprese femminili e imprese non femminili, quelle femminili sono più performanti su 11 indicatori economici su 13. Su questo abbiamo analizzato i dati di bilancio, quindi non sono opinioni, sono dati oggettivi. Del resto lo stesso Monti nei giorni scorsi ha detto che aumentare l'occupazione femminile, che rimane comunque per quanto riguarda l'Italia, tra le più basse, siamo assestati su una media italiana del 46% e poco ci conforta il fatto che regioni come quelle dell'Emilia-Romagna siano attorno al 60%, perché una regione come la nostra, come l'Emilia-Romagna, ma anche le regioni del nord si devono confrontare con il resto di Europa, dove l'occupazione femminile è già all'80%. Pertanto questa situazione di crisi potrebbe risolversi con una maggiore occupazione femminile, con un maggiore impegno da parte delle imprese femminili e anche, credo, una maggiore partecipazione politica delle donne. E questa naturalmente è anche la sfida, perché bisogna metterla così, no, per il futuro. Però, ecco, parlando anche di questioni legate strettamente al nostro territorio, parliamo ovviamente di piccola impresa. Allora, si è parlato tanto di questa globalizzazione, anche della necessità per le piccole imprese di stare sul mercato, però attraverso un salto tecnologico, attraverso le sinergie, attraverso l'innovazione, eccetera. Arrivati a questo punto, com'è il quadro, visto che non dimentichiamoci che voi fate analisi, ma anche supporto, appunto, a queste aziende, com'è il quadro e come, appunto, queste piccole imprese potranno sopravvivere e anche maturare? Ma il quadro è che siamo di fronte ad un tessuto produttivo che per oltre il 94% è fatto di piccole imprese, il che vuol dire nella fascia compresa tra i 2 milioni di fatturato, i 2 e 10 milioni di fatturato. In molti casi sono anche imprese artigiane, che sono cresciute nell'arco degli ultimi diecenni, a ridosso di grandi fenomeni che erano imprese maggiori, oppure gli investimenti pubblici e la capacità dei soggetti pubblici di creare opportunità di lavoro con infrastrutture, con attività di diverso genere. Oggi questa è una realtà che non esiste più, cioè oggi la leva da usare, e questo purtroppo è un po' l'errore che è stato fatto da decisori pubblici nei territori ovunque in Italia, non solamente qui nelle nostre zone, è quello di sperare che avere fondi per rimettere in moto degli investimenti pubblici. Oggi questo non è possibile, per i prossimi 5-6 anni l'Italia non avrà queste possibilità, se non utilizzando fondi europei, quindi adeguando le sue capacità di programmazione, come non ha mai fatto fino adesso. è noto che noi restituiamo oltre il 40% dei fondi strutturali europei all'Europa senza averli utilizzati, ed è uno degli indicatori meno performanti in tutto lo scenario euro. Ecco, quindi, internazionalizzazione, nuove tecnologie, questa è la sfida, e quindi come fare perché anche le piccole imprese ne possono approfittare. La parola d'ordine, secondo noi, è diventare un'impresa online, cioè un'impresa che sia basata sul linguaggio e culture del web, e questo non richiede investimenti enormi. Parliamo di poche decine di migliaia di euro, ed è possibile che questo tipo di approccio permetta anche di aggregare soggetti tra di loro per degli scopi comuni, quindi facendo economia di scala sul piano dei costi, ma anche economie organizzative sul piano dei vantaggi di offerta rispetto al mercato. E poi, soprattutto, la possibilità di fondere e moltiplicare in questa fusione anche le conoscenze e le relazioni di cui le imprese sono dotate. è noto che l'economia moderna, questo lo scrive Brodell dalla Rana e Scimero, studiando proprio l'economia del Mediterraneo, l'economia moderna è un'economia delle relazioni, cioè delle capacità di fare in modo che le merci incontri una domanda culturale e si rendono una risposta culturale più evoluta rispetto alla domanda di partenza. Quindi, su questi piani, l'uso delle tecnologie del web, che è un uso facilitato, perché oggi l'accesso è molto basso, perché oggi esistono giovani che studiano queste cose, per esempio, c'è la cosiddetta generazione dei digital native, quindi da soli sono portatori di molte di queste competenze, permettono di affrontare delle sfide, delle opportunità che solo alcuni anni fa non era possibile. Il problema qual è? Noi, per esempio, l'abbiamo studiato facendo una ricerca per l'Associazione Artigiana di Ravenna all'inizio dell'anno scorso, è che c'è ancora una bassa cultura d'impresa, una difficoltà a riconoscere queste cose e, come dire, la parte più evoluta dell'uso del web che va sotto questa sigla del web 2.0, del cosiddetto social web, è vissuta ancora con disagio, soprattutto da chi ha la mia età, per esempio, o da chi non è, come dire, frequentemente portato ad utilizzare questi sistemi per costruire rapporti, relazioni, per promuovere le proprie idee, i propri prodotti, i propri servizi. Credo che in questa direzione bisogna andare, bisogna dare molto spazio ai giovani, dentro e fuori le imprese, e ascoltarli anche sul piano dell'innovazione, della domanda dei bisogni, perché le tecnologie, soprattutto le modificazioni che le ostrie di vita delle persone, dei consumi, è stata indotta dalla crisi di queste tecnologie, apre anche una nuova domanda. Le imprese hanno la possibilità di tornare a crescere se riescono a intercettare, a comprendere, a riproporre questa domanda in chiave di nuovi prodotti e di innovazione. Benissimo, quindi un salto di qualità anche dal punto di vista organizzativo. Lei ha parlato di giovani e riprendiamo appunto questo discorso, perché strategicamente potrebbe essere importante per il futuro, però purtroppo adesso pare che quando si parli di giovani si parli di una fascia debole dell'economia, in quanto hanno difficoltà nell'accesso al lavoro e molte volte non viene sfruttata la loro professionalità. Allora, come si fa con i giovani? Come si fa con i giovani? Le difficoltà che hanno i giovani sono difficoltà che noi, mi ci metto anch'io, ormai faccio outing sull'età, visto che non rientro più nella categoria giovani, sono difficoltà che il sistema e noi abbiamo creato per loro e penso quindi che noi dobbiamo risolverlo. Penso che la prima azione da fare sia quella di intervenire sui costi del lavoro. Lo capisco oggi ancora di più come azienda, oggi assumere un giovane qualificato è quasi impossibile, perché è impossibile soddisfare le aspettative minime di un emolumento economico, di uno stipendio economico dignitoso, perché i costi per un'azienda sono eccessivamente altri. I giovani non credo che siano ciusi, non sono schizzinosi per citare una frase che il nostro ministro Fornero ha fatto molto discutere. Penso che si adattino, forse stanno iniziando ad adattarsi un po' troppo e stiamo costruendo un sistema che porta molto spesso a far rinunciare ai loro sogni, salvo che poi questi sogni li vanno a realizzare all'estero e allora parliamo di cervelli in fuga e di patrimonio perso. Penso che ci sia molto da fare, non solo su un'università da ricostruire, ma su un sistema della scuola da riformare. Benvengano, come si legge stamattina sui giornali, a riforme che premiano le scuole più meritevoli, basta che ci siano criteri per stabilire quali sono le imprese meritevoli, le scuole meritevoli. Benvenga un sistema che premia gli studenti, benvenga un sistema che premia l'ingresso nel lavoro, però dove siano riconosciute il talento e dove sia valorizzato quello che i giovani sanno. Penso che ci sia parecchio da fare da parte nostra. Bene, allora l'ultimo argomento, direi non certamente per ordine di importanza, è quello della green economy. Se ne è molto parlato come prospettiva di lavoro, prospettiva di impresa, però tante volte la green economy si scontra poi con i tagli. Allora, in questo settore, è effettivamente il caso di procedere in modo spedito oppure la crisi ha tagliato tutto? Ma guardi, basta un dato che è come dire noto, anche divertente, se non fosse tragico, fa anche sorridere. La Germania produce il 20%, proprio fa bisogno dell'energetico, sull'energia solare. È vero che oggi c'è il cambiamento climatico, per cui la soglia di temperature si è alzata anche nei paesi del centro-node d'Europa, però la domanda è come mai l'Italia non è a questo livello con l'energia solare e non lo è neanche con l'energia eolica, anche se nell'arco degli ultimi dieci anni è cresciuta notevolmente, perché ci sono degli interessi forti, ovviamente. Però credo che la Green & Coney oggi deve essere allargata da un discorso più denso, più profondo e che ha anche una maggiore capacità delle risposte nel breve come nel lungo termine, che si chiama, secondo me, il cosiddetto modello del smart city. Cioè la possibilità di progettare i sistemi di vita nelle città, nei luoghi di residenza, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di mobilità, nei luoghi di studio, anche nei luoghi di divertimento, avendo una logica di migliorare l'efficienza di questi sistemi, riducendo quindi le entropie, quindi i costi e anche la disfunzione energetica e quindi migliorando tutta una serie di attività che tra l'altro, migliorando i risultati di queste attività, producono nuove attività di lavoro. In professioni emergenti, in professioni che in tutto il mondo che sta riprendendo a crescere, sono premiate, incentivate, stimolate. Cioè io penso che non bisognerebbe più dare incentivi a chi compra un pannello sorale o impianta una pala eolica. Bisognerebbe dare alcuni credi in posta, immediati, automatici, come fanno per esempio in Inghilterra o in Gran Bretagna o in Germania per chi fa innovazione e ricerca su questi sistemi, su queste tecnologie, ma bisogna premiare i giovani che a livello di competenza creano attività, prodotti e servizi che servono a far funzionare questa crescita della vivibilità nelle città e nei luoghi di risidenza e di lavoro che va sotto la definizione di Smart City. Grazie per la visione!